Buongiorno FTE Online, partenza positiva per la borsa che vede il Futsimip questa mattina guadagnare l'1% circa, nonostante il rialzo di questi primi minuti di scambi, come vediamo dal grafico, in 3 day per il momento sull'indice non si registrano segnali di forza significativi, infatti solo il superamento ideale 22,5 e 5,50 dove vediamo il 50% di retracement del ribasso dai massimi di inizio novembre, costituirebbe un segnale di ripresa significativa dell'up trend che l'indice sta cercando di costruire dai minimi di metà novembre, oltre 22,5 e 50, possibile il test di 22,8 e successivamente dei massimi di area 23,130 di inizio novembre, se invece dovessimo vedere le quotazioni scendere nuovamente al di sotto dei 22,250 punti, diventerà probabile un ritorno sulla base di questa fase laterale intorno ai 21,950 punti. Questa mattina ci concentriamo su un paio di titoli che hanno aperto in forte rialzo per poi magari ridimensionare un po' i guadagni, Fiat Chrysler è intorno al 3% di guadagno, viene da una situazione di progresso abbastanza difficile, infatti se andiamo a guardare il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online, vediamo anche il suggerimento sul titolo era short dal 28 novembre, lo stop loss però per la posizione in essere era intorno ai 14,47 Euro e stamattina quindi saremo proprio sui livelli di stop, bisognerà vedere ovviamente se questo livello verrà confermato in chiusura di seduta, per capire se il sistema cambierà o meno posizione, per il momento sui 12 mesi l'utile è stato del 40% circa, il titolo ha una valutazione di rating su 5 stelle con solo una stella di valutazione, il che significa che siamo in una situazione forse molto troppo deficitaria per essere ancora sostenibile e quindi il rimbalzo di oggi potrebbe effettivamente anche costituire l'inizio di un tentativo di ripresa che vada oltre la semplice correzione tecnica, del resto vediamo che la reazione si è sviluppata dopo che i prezzi venerdì hanno testato i minimi di metà ottobre di area 13,95, per avere un segnale di forza credibile le quotazioni dovranno confermarsi anche in chiusura di seduta al di sopra di area 14,50 dove vediamo passo alla linea di tendenza che parte dal massimo del 22 di novembre al di sopra di corrivelli, sarà necessario superare questa linea di tendenza disegnata dal minimo del 19 di ottobre che costituisce la neckline del test a spalle ribassista che le quotazioni avevano disegnato dai massimi di inizio ottobre, in analisi tecnica infatti si ipotizza che il ritorno al di sopra della neckline del test a spalle dopo che questo è stato completato costituisca un segnale di negazione della figura e come se fosse sostanzialmente un BR trap, quindi un segnale non solo di ripresa del trend ma che potrebbe anche fornire indicazioni valide per il medio termine, al di sopra della neckline quindi che passa a 14,73, è possibile non solo il test del lato alto di questo canale ribassista che abbiamo fatto partire dai massimi del 3 di novembre, ma proprio il ritorno anche sui massimi del 3 di novembre a 15,82, se dovessimo vedere invece le quotazioni scendere nuovamente a di sotto di area 14,13,95 a quel punto diventerebbe molto probabile il proseguimento della fase carante che il titolo ha avviato dai massimi di inizio novembre, in quel caso diventerebbe probabile il raggiungimento del target del test a spalle che è possibile calcolare in base alla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura posizionato esattamente a 13 Euro. Guardiamo rapidamente anche Buzzi Unish, anche questa mattina si sta comportando bene, un rialzo di più del 2%, anche in questo caso il rimbalzo si è avviato dopo il test di un importante supporto, la base del gap rialzista del 20 settembre che si posizionava esattamente a 21,50 Euro, il minimo di venerdì è andato molto vicino a quei livelli, 21,62 Euro, il rimbalzo odierno potrebbe quindi anche cercare di intaccare la resistenza che scende dal massimo di inizio novembre, la linea di tendenza che passa a 23,10 Euro circa, in caso di superamento di quei livelli e in ogni caso area 23,10 è il primo target per il rialzo al superamento dei massimi di venerdì a 22,47 Euro, in caso di rottura di quei livelli è possibile test la linea di tendenza che scende dai massimi di maggio di quest'anno e che passa a 24,10 Euro circa. È evidente che sarà importante che le quotazioni si mantengano al di sopra di questo supporto, quindi che non scendono al di sotto dei 21,50 Euro per continuare a conservare l'intatta l'ipotesi di essere in presenza di un tentativo di rimbalzo a duratura, di sotto di area 21,50 invece è probabile al prossimamento della fase correttiva, in termini di distracciamenti Fibonacci siamo già scesi sul 50%, in quel caso il target andrebbe a spostarsi sui 61,8 a 21 Euro circa. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero.